E' stato eletto il nuovo coordinatore del forum dei giovani di Pollica e rinnovate le altre cariche. Amabile Cortiglia è il nuovo coordinatore Matteo Lagreca, il vice coordinatore Eilaria Di Gregorio, membro della Giunta. I giovani non sono il futuro ma il presente, afferma Amabile Cortiglia. E' giunto il momento che i giovani siano protagonisti del nostro territorio e ringraziamo il sindaco e l'amministrazione per la fiducia investita in un gruppo di ragazzi che amano la loro terra e che vogliono impegnarsi per la crescita e il futuro della comunità. Soddisfatto il sindaco Stefano Pisani che ha voluto fortemente le elezioni del forum per tornare a far operare i giovani sul territorio. Un modo concreto per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, commenta il sindaco, per fare in modo che possono con le loro proposte aiutare concretamente anche l'amministrazione comunale nella programmazione degli eventi rivolti ai più giovani. Per i giovani del nostro territorio darò sempre il mio massimo impegno. Ecco gli altri componenti dell'Assemblea del Forum. Marco Del Sorbo, Francesco Maiuri, Alfredo Masarone, Antonio Francesco Musto, Brunella Orlando, Francesca Rispoli, Amedeo Varricchio, Michael Vassallo.